La data è confermata, entreranno in funzione solo dal 2 febbraio le telecamere posizionate al posto dei vecchi varchi per l'ingresso nel centro storico di Teramo. Oggi, intanto, è stato attivato il nuovo sistema mobile a scomparsa, il disuasore Pilomat, a protezione dell'area pedonale di via Capuani. Da oggi inizia questo sistema nuovo di parcheggi per dalle 9 alle 13, mezz'ora liberi, praticamente potendo parcheggiare la sosta successiva dopo due ore. Abbiamo attivato anche stamattina il Pilomat che permetterà di creare l'isola pedonale dalle 19 alle 24. In via sperimentale faremo solo il fine settimana, non questo fine settimana perché il venerdì c'è il mercatino di San Belardo e quant'altro. Dalla prossima settimana potremo attuare, quando vogliamo, l'isola pedonale su via Capuani. Spieghiamo un attimino come funziona Pilomat. Il Pilomat è un sistema che vieta l'accesso delle autovetture su via Capuani con un sistema elettronico che ha anche tutti i sistemi, si abbassa automaticamente se in caso di necessità di emergenza con le sirene sia dall'ambulanza che dalle forze dell'ordine. I residenti verranno dotati di un telecomando e funziona come un semplice telecomando, normalmente come tutti i sistemi elettronici. Dunque dalle 19 alle 24 le macchine, tranne per gravi motivi e per emergenza, non potranno entrare su via Capuani. Dunque si potranno fare, se i commercianti lo riterranno opportuno, tutte le iniziative atte a promuovere il commercio, altre iniziative che si vogliono intraprendere su quella via. Dunque...